Un ottimo rimini, primo tempo perfetto, l'unica occasione che avete concesso nella ripresa purtroppo avete preso gol, forse questa è l'unica nota negativa. Sì, in effetti oggi diciamo che è stato il gol l'unica nota negativa, perché poi del resto penso che abbiamo fatto un primo tempo incredibile, perché abbiamo tenuto dei ritmi alti fin dal primo minuto, abbiamo fatto tre gol, ne potevamo fare altri. Il problema è che poi nella ripresa a livello mentale siamo calati, abbiamo concesso troppo agli avversari e quello purtroppo è una cosa che dobbiamo migliorare. Noi dobbiamo riuscire a portare l'intensità del primo tempo per 70-80 minuti, allora se riusciamo a fare quel, a prestare agli avversari, a tenerli nella loro metà campo, secondo me le partite saranno meno difficili e ci potremo divertire di più. Oggi secondo tempo abbiamo fatto l'errore di abbassarci troppo e abbiamo concesso comunque, non tanto però, quel poco a Limolese che sai, magari un po' di sfortuna, una cosa, un gol, si può riaprire la partita. Dicevo al tuo collega, oggi siete stati perfetti, più di un tempo e mezzo, l'unica nota negativa dopo la partita di Scandizzi è che avete preso ancora una volta gol. Sì, l'hai detto in sintesi, l'hai detto a te, siamo partiti bene e niente, il gol è stato un ottimo tiro, lavoriamo e cerchiamo di prenderne sempre meno, ma poi se si vince 4-1 va bene anche prenderne uno ogni tanto. Senti, siete una super corazzata, se si gioca sempre così deliziate troppo il palato ai tifosi bianco-rosi, facciamo una battuta ovviamente, no? Sì, sì, sicuramente siamo un'ottima squadra, però per me va bene vincere anche 1-0 al novantesimo, se si gioca così penso che il pubblico si diverta, meglio e speriamo già da mercoledì di ripetersi, dai. L'esperienza insegna, due gol presi a Scandizzi, l'ultimo all'ultimo secondo, oggi invece avete giocato in maggior soltezza. Sì, sicuramente da quel gol preso al 95 esi ci ha dato fastidio, però c'era la stessa cattiveria di domenica, oggi siamo partiti bene e abbiamo finito alla grande, quindi va bene così, dai.